Michele Tommasino, direttore generale delle ACLI, è una società storica di Campobasso che offre tante opportunità ai giovani. Sì, è una società storica che in questo periodo sta cercando di stringere collaborazione con diversi club di natura professionistica e quindi abbiamo avuto l'opportunità di cedere uno dei nostri ragazzi dalla società professionistica al Teramo e quindi questo ragazzo di 14 anni, quest'anno Davide Docanieri, è stato visto da questa società ed è stato preso in considerazione e abbiamo stipulato un contratto con loro per una forma di collaborazione che possa durare anche nel tempo. Quindi questo ragazzo è a Teramo adesso a cercare di diventare qualcuno più importante. Ecco, una collaborazione, dicevamo, con il Teramo e il rapporto con le altre società qui in regione? Noi abbiamo sempre cercato di collaborare con tutti. D'altronde anche quest'anno con il Campobasso, anche con qualche vicissitudine in più, ma siamo riusciti a dare dei ragazzi e d'altronde cinque ragazzi sono nel giro della prima squadra del Campobasso e guarda caso tutti e cinque sono ragazzi che provengono dal vivaio del settore giornalino delle Agri. Martinelli, l'ultimo arrivato, che adesso è titolare in prima squadra e finalmente abbiamo l'opportunità di vedere all'opera i nostri ragazzi perché anche l'anno scorso c'erano dei ragazzi che secondo me potevano essere inseriti in prima squadra, però chiaramente la nostra è un'opinione di parte e poi quando ci confortano i fatti e quando qualche allenatore attento poi riesce a fare vedere che anche i ragazzi del Molise hanno delle buone capacità, ecco, questo a noi ci fa molto piacere. Noi siamo Campobassani, questo ragazzo di Campobasso, tutti e cinque, ripeto, sono della nostra società e quindi questo per noi e per i nostri tecnici è un vanto, ma ci farebbe piacere vedere il Campobasso di Soli Molisani. Questo certamente è più difficile che accada, però tendiamo a fare questo. Sono tante le attività che svolgono le Agri, quali sono i prossimi progetti? Beh, quest'anno ci siamo strutturati già in una maniera diversa, il professore Enzo Nunziata è il direttore della scuola calcio, quindi della parte tecnica e abbiamo preso un preparatore atletico competente, abbiamo cercato di prendere anche una persona per i portieri che è un ruolo particolare e che magari tante volte è meno attenzionato, ecco, abbiamo preso un preparatore atletico proprio specifico per i portieri, quindi stiamo cercando di curare tecnicamente tutto quello che è possibile per tentare di migliorare prima di tutto noi stessi e poi per cercare di dare una possibilità anche a quelle persone, questi ragazzi che meritano nel nostro piccolo Molise di avere una chance.